Il latte materno è la prosecuzione di un legame unico e indissolubile esistente tra la mamma e il bambino. Allattare al seno è naturale, salutare per il benessere del piccolo e della madre, ma ancora prima un gesto d'amore. Dopo l'incontro conoscitivo organizzato ad Andrea, il progetto Il latte materno è il meglio è stato presentato anche a Trani. L'evento, organizzato dalla ASLBAT, ha visto il coinvolgimento di un gruppo di esperti per promuovere un momento di informazione e sensibilizzazione confronto sul tema dell'aleattamento. Questo progetto è nato innanzitutto con la sensibilizzazione del personale ASL, soprattutto formato da pediatri, ospedalieri, ostetrici, ospedaliere e anche consultoriali per creare un dialogo tra territorio e ospedale, dare continuità assistenziale alla madre e al bambino e in questo specifico momento noi stiamo cercando di creare anche la rete attraverso le persone che supportano la mamma in questo periodo della nascita che sono appunto la famiglia, gli amici e la società. Il latte materno protegge il bambino da infezioni e allergie nel primo anno di vita, allattare e salutare anche per la madre perché favorisce il recupero del benessere psicofisico, aiuta a perdere peso e a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi. Noi siamo qui oggi per creare una cultura sull'allattamento materno e ribadire quanto questo allattamento serva alla madre e al bambino per garantire la salute del loro futuro, non solo nella prossimità della nascita ma anche in età adulta. Prossimo appuntamento con l'evento Allattare il Meglio il 18 e il 19 novembre al Castello Normanno Svevo di Biceglie.